Un caro saluto a tutti i lettori di Lifestyle. Sono a New York, a Central Park, perché voglio fare un po' di movimento. Noi tutti vogliamo prepararci per la prova costume, giustamente, se non prevenire sovrappeso, obesità e anche diabete 2. Ma per fare questo bisogna fare attenzione all'alimentazione e fare movimento. Io vi sto preparando. Seguitemi che vi parleremo nel prossimo video.